Cosa importante è che come sempre il risultato della squadra è andata molto bene, quindi bene così, un bel esordio. Che effetto ti ha fatto? Mesti la maglia numero uno del Pescara in gara ufficiale? Sempre un bel effetto, sempre bello giocare, una maglia importante, quindi ero molto contento per questo esordio. Una gran partita del Pescara, ma adesso lasciamo stare la Coppa Italia, ti chiedo tu che comunque hai delle qualità. Quanto ti pesa il ruolo di secondo a un portiere importante come Pizzari? Sappiamo che il portiere è un ruolo molto delicato, ha delle gerarchie, è difficile cambiare queste gerarchie, soprattutto quando c'è un portiere forte come Ale. Il portiere della Nazionale Under 21. Il portiere della Nazionale Under 21. Io continuo a lavorare per farmi trovare pronto quando ci sarà la mia occasione, se ci sarà, come è stato oggi, quindi vado avanti così per questa strada. E noi ti ringraziamo. Grazie.